Questo quadro è firmato da Elena Curti, me lo ha donato al compimento dei suoi 93 anni e un suo autoritratto. Chi è Elena Curti? Tuttora vivente. È figlia naturale, l'ultima vivente di Mussolini. Seppe all'età di 17 anni di essere figlia di Mussolini perché la madre che aveva concepito questa bambina con Mussolini mentre era sposata ad un altro signore, al signore Curti, la madre Angela Cuggiati, la mise al mondo il 19 di ottobre del 1922, nove giorni prima della marcia su Roma. Accorcio la ragione per la quale la madre ebbe questo rapporto con Mussolini e lo dico semplicemente perché questa signora sposata con il signor Curti andò da Mussolini appena eletto deputato a vedere di aiutare il marito che era in prigione perché era stato un attivista fascista ed era stato messo in prigione. Ovviamente essendo una bella donna e avendo frequentato due, tre, quattro volte la direzione del popolo d'Italia a Milano alla fine del 1921 all'inizio del 1922, i conti sono facili a farsi, è nato qualcosa tra loro ed è nata poi questa bambina. La Elena seppe all'età di 17 anni casualmente di essere figlia di Mussolini perché si irritò dietro all'osservazione della madre che al telefono parlava tutte le sere con una persona lontana che non era a Milano, loro abitavano a Milano ma abitava a Roma e avendo avuto dei garbati rimproveri perché al liceo ovviamente perdeva tempo, disse alla madre, riferì alla madre di mandare a quel paese questa persona che metteva il naso nelle sue cose. A quel punto la madre disse, no piano questa persona è tuo padre vero. La notizia provocò ovviamente un trauma presso la ragazza ma il corrispondente telefonico volle conoscere a quel punto la ragazza e quindi arrivarono a Roma e la conobbe quando Elena aveva tra i 17 e i 18 anni. Ne seguì un rapporto a distanza inizialmente e poi più intenso durante la guerra, dopo lo scoppio della guerra perché Milano cominciava ad essere bombardata e allora Mussolini fece venire le due donne a Roma ad abitare a Roma. Elena Curti viveva con una sartoria alla moda che gestiva a Milano, arrivò a Roma, si occupò di altro e le cose andarono così. All'accaduta di Mussolini ovviamente dovettero rientrare a Milano ma alla formazione della Repubblica Sociale italiana la ragazza che ormai cominciava ad avere 21-22 anni fu assunta prima nella segreteria del Ministro Mezzasoma che era Ministro della Cultura e poi nella segreteria di Pavolini che era il capo del partito fascista repubblicano. Come tale seguì la colonna che da Milano uscì il 26 aprile verso Como. Vice Elena furono degli errori gravissimi perché non c'era una ragione per andare a Como, ma comunque le cose sono andate così e ha denunciato nel suo libro Il chiodo a tre punte, che è la storia di quei momenti storici, ha denunciato l'improvvisazione, l'approssimazione di tutto questo esodo. Ma Elena non ha colto quello che io invece ho sostenuto che in tanta improvvisazione ci fu anche una ragione occulta per la quale Mussolini fu costretto ad andare verso Como e poi a sparire nella notte tra il 27 e il 28 di aprile per molte ore. Io ho già pubblicato questa mia ipotesi abbastanza basata su fatti abbastanza consistenti perché sono convintissimo che con gli incontri e con i contatti in arcivescovado col cardinale Schuster Mussolini sia stato indirizzato a trattare consegna di documenti alla frontiera svizzera con degli agenti dell'OSS, cioè del servizio segreto statunitense che poi dopo il 46 diventò la famosa CIA. per arrivare a questo contatto Mussolini andò a Como, ebbe contatti con il vescovo di Como, Monsignor Macchi se non ricordo male, e dovette seguire le automobili di due preti, uno di questi abbastanza poco noto, forse secondo me la chiave di lettura è proprio basata su questo secondo del quale parlo, cioè Monsignor Boninsegna, che è quello che non fece mai arrivare Mussolini a una frontiera secondaria con la Svizzera all'incontro con i famosi agenti segreti dell'OSS che in Svizzera erano liberissimi di agire e che avrebbero dovuto ricevere il contenuto di una borsa che Mussolini aveva in mano in quei frangenti, il contenuto del quale in maniera molto fugace mostrò poi ad Elena Curti e spiegherò adesso fra un minuto come e quando lo mostrò. La scomparsa per alcune ore, 6-7 ore, di Mussolini da tutti gli altri, che erano ormai nella tratta del lago di Como sbagliatissima per eventualmente andare in Valtellina perché era quella opposta che portava verso la Svizzera e che portava verso Dongo, quando ciò fu vanificato, Mussolini rientrò e si fece riprendere dalla colonna di, chiamiamola con i gerarchi, che era diretta verso Dongo. Salì sulla famosa Autoblindo che non era altro che un grosso autocarro corazzato in un certo modo, ci sono le fotografie su molti riviste, libri, giornali di questo strano mastodonte che aveva le ruote gommate come un qualsiasi autocarro e non quindi come un autoblindo con le ruote speciali e che fu bloccato, curiosamente dice Elena Curti, da due tronchi esili di acacia e dalle sparatorie di qualche furbacchione che era postato su una collina, mentre invece, sostiene Elena Curti, l'ha sostenuto nel tempo, è curioso come nessuno dei nostri giovani, ha detto lei, si sia opposto sparando armati, armati in maniera anche più consistente sicuramente di quelli che si sono sospettati essere stati partigiani, ma comunque persone che nessuno è riuscito a inquadrare e a vedere, i giovani fascisti non abbiano reagito opportunamente. Poi la storia del travaso su un autocarro tedesco che è finalmente appartenuto a una colonna con 800 tedeschi che hanno avuto il via libera per andare a finire verso la Valtellina, quindi oltre Dongo, eccetera, per il quale criterio stabilito non si sa come, non si sa da chi. I tedeschi potevano passare, gli italiani no, Mussolini fu invitato curiosamente da questo tenente Fallmayer, la identità del quale nessuno ha mai accertato, è un fantasma questo personaggio nella storia, è salito su questo autocarro ed è stato in un certo senso facilmente consegnato a quelli che noi possiamo chiamare i cosiddetti partigiani. Perché io uso questa espressione dei cosiddetti? Perché ufficialmente sono apparsi nella storia questi signori che erano italiani, di parlata italiana, ma non si può contestare che nessun italiano abbia organizzato l'operazione cattura e massacro di Mussolini. Non avevano né i titoli né le capacità organizzative né l'autorità, perché gli alleati non avrebbero mai concesso a degli improvvisati cialtroni, diciamo la verità, era gente raccogliticcia, inutile che vadano a raccontare quelli del CLN che avevano armate bande, organizzate, divisioni, non c'era nulla di questo genere. Il CLN era governato dal famoso Alfredo Pizzoni che era un banchiere in maniera ferrea, ma seguiva pedissequamente le disposizioni dei servizi segreti americani. Peraltro il famoso atto sottoscritto a Roma il 7 dicembre del 44 col generale Maitland Wilson e per il CLN da quattro loro caporioni, uno dei quali era proprio Pizzoni, era un atto che stabiliva il da farsi con compensi di 160 milioni al mese, il da farsi per i mesi che andavano da dicembre a tutto aprile 45, il che faceva chiaramente capire che ad aprile 45 sarebbe finita completamente l'operazione Italia e la guerra. Di conseguenza entro quella data, entro la fine di aprile, Mussolini sarebbe stato catturato e certamente soppresso. Andiamo invece ai documenti famosi, nella famosa cartella di cuoio marrone che Mussolini aveva sempre con sé e che mostrò ad Elena Curti perché Elena si trovò sull'autoblindo con Mussolini, era l'unica donna che era sull'autoblindo, era l'unica donna perché la famosa Petacci non c'era, non c'era. Elena si vede aprire la cartella e mostrare da Mussolini perché c'era confidenza tra loro due, in quanto uno sapeva dell'altro e l'altro e lei non era casualmente lì, si vede mostrare un'infinità di documenti di corsa per i quali non fu in grado di stabilire di che cosa si trattasse. Secondo un mio parere si trattava certamente dell'epistolario ignorato da De Felice tra Mussolini e Roosevelt, con un grosso e maggiore epistolario tra Mussolini e Churchill e sicuramente anche rapporti di documenti tra Mussolini, l'Italia fascista e l'Unione Sovietica. Questo è indiscutibile, il contenuto di questa cartella è scomparso, dove si è andato a finire lo posso indicare per deduzione logica dal momento che ho spiegato che molti anni fa invitai Guido Mussolini, figlio di Vittorio, ad andare a intervistare sua madre prima che morisse, il caso ha voluto che sia morte sia la madre, Orsola Buvoli, che Guido 4-5 anni fa, la madre molto di più. Io la conobbi Orsola Buvoli perché frequentai la loro famiglia fin da giovane e la madre raccontò al figlio e lo registrò, e io ho visto questa registrazione, che un giorno del 1946 si presentò dal vescovo Macchi di Como per reclamare effetti personali mobili e un baule lasciato al vescovo di Como. Il vescovo davanti a questa richiesta, siamo nel 1946, Orsola Buvoli doveva espatriare e andare in Argentina, davanti a questa richiesta disse quanto al contenuto della cassa nella quale c'erano documenti, come facesse a sapere che c'erano documenti vuol dire che aveva aperto la cassa. Io ho consegnato il contenuto intero a un certo padre, prete, arrivato da Roma, il quale mi ha fornito questa autorizzazione e ha mostrato un foglio di carta firmata da sua suocera, da donna Rachele. Appena Orsola Buvoli ha visto il foglio di carta ha detto questa non è la grafia di mia suocera, ma è una grafia zotica di altra persona, oltretutto mia suocera non avrebbe potuto firmare nulla perché è tuttora detenuta in campo di concentramento degli alleati. Quindi è venuto fuori automaticamente il fatto, ammesso dal vescovo di Como, che i documenti, cioè i diari in originale, più altre cose che erano contenute in quella cassa, siano stati portati da questo prete a Roma in Vaticano. Vaticano significa archivi segreti vaticani. Secondo quel discorso e per deduzione anche i documenti che sono scomparsi e non sono il solo a sostenerlo, quelli nella famosa cartella ed anche altri che furono intercettati su un camioncino sulla strada per Como eccetera, sono finiti con certezza assoluta in Vaticano insieme con tutti gli altri documenti che sono stati sostrati a Carlo Alberto Abigini, il quale riparato a Padova nel convento presso la Basilica di Sant'Antonio, fu avvelenato e fatto morire nei giorni dell'agosto 1945 a Milano in una clinica con la scusa che aveva un tumore, accertato non essere stato tale addirittura da padre Agostino Gemelli che era un medico. Quindi anche i documenti che erano copie, contenuti, posseduti da Abigini, furono fatti sparire e con certezza i frati di Padova li hanno fatti trasferire in Vaticano. Mi potrei fermare qui, c'è semplicemente il mio accenno alla Petacci che non fu presente nella scena dell'autoblindo, se non a un certo momento, nel momento finale arrivò come un falco nella situazione mettendosi ad inveire contro Elena Curti, che non conosceva, pensando che fosse un'altra avventuretta di Mussolini, al che Mussolini con molta pacatezza la invitò a tacere. Elena Curti seguì una certa sorte, fu messa in prigione, fu bastonata, ma nessuno sapeva che fosse figlia naturale di Mussolini, fu imprigionata per più di sei mesi, mentre la Petacci seguì la sua sorte. Fabio Andriola, lo storico, sostiene da oltre dieci anni che la Petacci fosse stata una doppio giochista, in intesa col Vaticano, il padre non dimentichiamo era stato archiatra pontificio, cioè medico del Papa, con i tedeschi di Wolf, del generale Wolf, in combutta con agenti americani, grazie al fratello e anche probabilmente con emissari sovietici. Mi fermo qua, ma ho accennato una pagina di storia che secondo me modificherebbe, se fosse stata concretata negli anni immediatamente successivi avrebbe modificato tutta la storia italiana, ma la può modificare ancora adesso a livello mondiale perché finora siamo stati investiti da un'alluvione di menzogne che non fanno certo fare una bella figura a tutto il sistema di chi ha vinto la seconda guerra mondiale.